Zona Podio, torneo match talent, è colui che si distingue su 14 giocatori all'interno del rettangolo di gioco. Eccolo qui, sulla mia sinistra, un estremo difensore con fiocchi, Marco Zanghi, che quest'oggi espugna una vittoria importantissima. Siete a metà classifica, 11 punti su 6 giornate di campionato. Ancora è molto lungo, ma 6 giornate, 11 punti, il bottino per quanto riguarda la vostra qualità calcistica è piuttosto bassino. Abbiamo dei giocatori molto di categoria superiore come Orazio Gangi, lo stesso Antonio Condorelli, Antonio Anastaci. Siamo un'ottima squadra, dobbiamo capire più come giocare, diciamo, come gioco di squadra per andare il più avanti possibile e arrivare il più lontano possibile in questo torneo. La partita di oggi, una tua ex rivale, il team Etna Color, tra l'altro ricordiamo che è sponsor ufficiale, come lo siete pure voi, autoparti Catania. Ma quest'oggi è una partita, diciamo, un po' strana. Subito il calcio d'inizio, direttamente dal calcio d'inizio il dottor Antonio Lovisio ti colpisce. Sì, è stato un tiro, sono trovato un pochettino impreparato perché il primo tiro di solito non me l'aspetto che tirano in porta, però un gran tiro ha fatto all'angolino basso, è difficile da parare, un ottimo tiro. Un primo tempo sull'1-1, un secondo tempo da Leoni, risultato ribaltato totalmente. Sì, grazie anche ad Orazio e a tutta la squadra siamo riusciti a portare in porta questa partita e andiamo avanti. Il migliore in campo, qui con noi Marco Zenghi, l'estremo difensore dell'autoparti Catania, all'interno della sala intervista. Ciccio Caruso, On The Mondo, sulla pagina ufficiale di Facebook. Ciccio Caruso, On The Mondo, sulla pagina ufficiale di Facebook. Ciccio Caruso, On The Mondo, sulla pagina ufficiale di Facebook.